Ma qualcosa solo per noi o che caratterizzi noi? Grazie. Per me Bardello rappresenta tanto, ha rappresentato anche un cambio di vita, perché io venivo da Varese. Quello che mi è rimasto molto nel cuore è la curiosità dell'accoglienza di Bardello e soprattutto io lo ricordo proprio per mio nonno, perché mio nonno credo che sia stata una persona molto importante, mi ricordo che quando passeggiavo con lui lo conoscevano tutti e soprattutto per lui il lago rappresentava tantissimo, quindi io sono contenta di averlo onorato così, lui mi aspettava anche alle due di notte quando tornavo dai meeting nazionali di Piediluco per vedere la mia medaglia, la bellezza di 90 anni, mi aspettava, quindi è stato proprio una persona importante e so che rappresentava un po' tutti voi. Grazie Federica.